carlo scegli tu quale di questi due tre macro argomenti su quale affondare diciamo e poi tiago giallo e tiago giallo no su su indice però devo dire che all'interno della juventus anche i compagni di squadra c'è c'erano dei resoconti non paolo incredibili c'è già un fenomeno se ero poi dopo che poi devi sempre dimostrare no su tiago giallo è un giocatore che noi abbiamo già visto in italia no io non l'ho visto visto io l'ho visto ho visto più volte dal vivo anche e onestamente chi non è rimasto colpito vedendo dal vivo tiago giallo secondo me fate fare un altro mestiere non occuparsi diciamo così paroloni prende l'idea no perché prima ma non sottoscrivi perché se così siamo contenti lui l'ha visto allora stiamo parlando del semestre ma 15 partite non so più o meno quindicina di partite che tiago già lo ha giocato in italia in forza la primavera del milan poi mi entra nel non tutti lo sanno lui entra per un controvalore di un milione simbolico ma perché lì lo mette nella trattativa nell'operazione leao quindi questa sua passaggio in italia è passato un po' inosservato ma non inosservato agli occhi anche sul campo di carlo pizzico no perché voglio dire si vedeva che abbiamo un giocatore di un altro livello cioè no siccome lo dico l'ho detto forse un po' così forte no perché mi hanno chiamato prima dicendomi fa no so non se ne è accorto nessuno che è passato in italia no se ne è accorto benissimo chi vedeva le partite della primavera del milan per esempio ausilio usate per esempio ausilio che l'aveva scusami che che da un anno lui aveva già fatto l'accordo giocatore per prenderlo a zero e portarlo all'inter tra l'altro lui va via anche in una situazione un po così perché è stata una bella operazione all'epoca del milan credo di sassà monaco che adesso lavora per uscire quando arrivò dallo sporting c'era quella quella sempre quella finestra no che c'è nei giovani a un certo punto tu hai sei mesi per perché sono liberi dai contratto e puoi entrare e fu molto molto abile e lo portò a dispare insomma al milan insomma io si vedeva che un giocatore di un alto livello però ovvio poi dopo deve andare a prendere le au sacrifichi perché intanto lui esce dalla primavera del milan va a giocare ma giocare gioca sempre a giocare gioca sempre fino al brutto di fortuna fa anche il capitano non vince il campionato nel lì il come qualcuno ha scritto detto ieri non è così però fa il capitano c'è in frettissima prende i gradi in ligan frattissima prende i gradi di ligan è un giocatore che ha caratteristiche ecco caratteristiche carlo al difessore moderno è un giocatore che già all'epoca cercava tantissimo la palla all'epoca probabilmente forse troppo però aveva un bel timing sull'intervento per questo io l'altro giorno vedevo un'intervista proprio del suo ex allenatore che è tratto ieri parlando e che era federico giunti e che non si in una evidentemente in un'immagine che è un po troppo forte dice assomiglia cannavaro ma e quindi il titolo rimane quello però nella logica dell'allenatore c'è proprio nel tempo di intervento giocatore diverso da cannavaro evidentemente a me mi fa venire in mente non so se ve lo ricordate joao miranda che ha fatto tanti anni l'atletico madrid passata in politica e dall'inter si è un giocatore che ha quel tipo di passoli quindi sembra un lento ma invece il giocatore secondo me è veloce anche nelle letture ha un buon piede ha giocato più volte a tre quindi ma in tutte le posizioni diceva sempre giunti che loro giocavano a quattro però nelle porzioni di partiti dove giocavano a tre si metteva molto volentieri a sinistra come anche nell'ill ho visto che spesso pur non essendo mancino anche a quattro giocava su centro sinistra esatto perché c'è quella postura che vede campo dei destri che giocano a sinistra quindi poi dopo dipende un po' dalla richiesta se il filtrante è una richiesta allenatore e oggi che deve stare sul centro destra a me piace anche proprio in centro perché uno come da direttore c'è l'orchestra delle aperno dico no pala bonucci non ha ovviamente quello di calcio ma tra lo sapete al fenerbahce fenerbahce per lui quindi dal campionato tedesco il campionato turco altra esperienza ma adesso è un giocatore secondo me di grande valore grande valore fortemente voluto da giuntoli guardate che la juventus ha strappato il giocatore all'inter che magari capisco che questo accenda la chat vale fino a un certo punto e non basta per essere un buon giocatore ma basta già per entrare nelle simpatie dei tifosi della juventus però devo dire che giuntoli ha dovuto fare un lavoro pazzesco col giocatore per convincere a rompere quella che era una parola data all'inter giocatore ha messo una condizione nominata in prestito che era l'idea della juventus quindi a sorpresa da quello che so io il giocatore ha imposto poi vediamo da qua a fine mese ma mi risulta così contro quello che era il programma della juventus ma aggiuntoli ha accettato questa condizione di rimanere subito nella juventus quindi già lo dovrebbe rimanere a torino e vuole giocarsi subito le sue carte c'è questo crociato che pare secondo me è il vero punto interrogativo c'è la ripresa del ragazzo perché sono un intervento pesante ritrovare il crociato l'elasticità è sempre con la sua forza proprio anche il cambio di direzione c'è quando deve difendere eccetera lì ovviamente deve essere testato e credo che lì bisognerebbe avere un po di pazienza onestamente per ritrovare il tiago giallo del del mille ecco quello sì questo secondo me è l'unico però come hai detto tu arrivando nell'operazione un filo dopo gli altri per cercare di averlo ha dovuto concedere qualcosa e probabilmente questa cosa qua del non presto che diceva adesso tu rientra nel pacchetto allora 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 questo quadretto su tiago giallo ti ha rinfrancato paolo guarda mi conoscevi già l'avevi già studiato no no talmente tanto che lo stavo praticamente dettando al mio sito quello che ha detto sì perché mi sembrava importante io no io non l'ho mai visto sinceramente giocare e quindi quindi eh devo dirti io sono esaltato da quello che ho visto di Wisen eh in Roma Atalanta quindi io siccome ormai appunto ho detto che godo a vedere la Juve difensiva eh l'idea che stiamo accumulando giocatori interessanti in questo mi mi diverte sempre di più perché stiamo ricostruendo secondo me qualcosa di molto molto importante sul centrocampista Anna ti rispondo eh sì mi aspetto assolutamente che la Juventus mediti questo innesto Alessio vai ti faccio fai un paio di domande che hai sentito mezz'ora poi andiamo un attimo di nuovo a fondo su alcune situazioni più che di mercato ma di scaramucce anche tra le due società voglio chiedere a Carlo che polso si percepisce a Milano su sul fronte dell'azzurro se se davvero c'è qualcosa di disturba che disturba e perché ehm lato Juventus non tanto lato VAR poi se vuoi parlarmi del VAR puoi farlo sei libero però ce lo dici dopo Alessio le tue domande sì in realtà io mi collego a quello che stavi dicendo tu Luca credo che ci sia una Juve che in queste 19 partite sia cresciuta a livello di consapevolezza e nello stesso tempo ho notato un Inter invece che ha perso un po' di spensieratezza nella prima parte di stagione mi sembrava che l'Inter giocasse in maniera un po' più spensierata ora mi sembra che stiano un po' sentendo e soffrendo questo fiato sul collo quindi volevo un parere da parte di Carlo ehm il fatto che ci sia la Juve a due punti e non in Napoli adesso dico cambia Napoli Roma cambia qualcosa addirittura il Milan anche se cambia perché i giocatori secondo me conoscono la storia di chi ti sta lì attaccato al colpaccio e quindi loro sanno che avere la Juve a meno due non è come avere il Napoli a meno due perché la Juve può anche steccare una partita però è sempre lì e se la Juve prende consapevolezza secondo me non lo so tanta paura secondo me invece il giocatore percepisce un po' più tensione perché percepisce che in società c'è più tensione se non è non è perché il giocatore la storia io c'è giocatori ormai sono quasi tutti stranieri l'Inter no non lo so qual è la verità secondo te Carlo oppure solo una componente stanchezza perché l'Inter ha giocato più della Juve banalmente sì secondo me è più quello io questa cosa mi sembra più giornalistica onestamente da cavalcare che la tensione però scusami Carlo è vero ma è vero legittimo per un giocatore che arriva a caldo in un dopo partita no per questo fa un'analisi sull'avversaria anche di carattere finanziario non l'avevo mai sentito vita mia mi ha coppito no 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 quello sono d'accordo c'è però diciamo è stata intravista o diciamo qualificata la rivale di quest'anno è la Juve e quindi da lì inizia questo però c'è un allenatore che gli allegri ci ho punto al porto posto quegli altri rispondono cioè mi sembra tutta una che le più c'è altri superficie ma non credo che vada come dire a interessare il discorso della tensione cioè è una cosa normale che comunque sono professionisti poi uno può essere più ben infastito da quello che legge ormai poi spariti sostanzialmente i giornali o declassificati a Samy's Dart che non compra più nessuno e televisione un po' così ormai sono i social e sui social ti arriva un po' di tutto quindi magari uno risponda però secondo me non riguarda molto il campo e io non ci vedo una come dire un nervosismo in più ecco sì si tratta di una rivalità che quest'anno è conclamata cioè è storica dico però per i giocatori di quest'anno è amata perché la rivale è la juventus e l'idea probabilmente di acerbe come dire ma insomma qui sui social mi stanno tutti dicendo fa voi dovete vincere altrimenti fallimento sennò quegli altri mi sembra anche una banalità estamente che io non l'avrei detta non avrei nemmeno pensata però non ci vedo attorno questa tensione ecco mi sembra una roba male nel modo di stare in campo carlo cioè a me sembra un inter che era molto più fluida nella manovra fino a 45 giornate fa ora mi sembra un inter più frenetica in campo più nevrotica no quello sì però però secondo me quello diceva prima luca cioè più per una questione più fisica o ma non non è questione di tensione ecco c'è certo c'erano delle certezze ma l'inter ha cambiato poco i giocatori anche perché su quelle certezze ha costruito tanto in saghi ma il centrocampo praticamente non ha mai cambiato se non dall'ottantesimo in avanti dov'entrano c'erano glu e scusa aslani per c'erano glu e qualche volta frattesi però miki italian però sono sempre quelli che giocano quindi a lungo andare evidentemente un po di stanchezza c'è davanti uguale ha giocato i due sanchez è quasi se pochissimo visto e arnauto ci ha giocato poco un po per infortunio un po perché quindi non ci vedo ci vedo più quello ecco e in più sono tante partite dietro forse hanno variato un po di più con qualche cambio però hanno allargato un attimo la rotazione ma io ci vedo più quello ecco che la tensione onestamente certo c'è tensione secondo me attorno al nostro mondo della comunicazione perché al mio modo di vedere in maniera errata ma però c'è solamente casino e quindi da questo più tensione dell'ambiente perché c'è il gioventino che risponde all'interista cioè c'è questa roba qua ma nell'ambiente ovviamente poi il calciatore risente anche di questo ma non credo che sia così importante dal punto di vista calcistico cioè io credo che il calcio venga prima di tutte queste polemiche però capisco in italia siccome siamo a livello come diciamo prima come calcio basso si butta dentro tutto si fa cacciara e pare che tutti ci guadagnino per me ci perde solo il calcio italiano però pare che tanti ci guadagni. Alessio prima che vada via perché Paolo so che ai minuti contati voglio chiedergli ancora una cosa anche io se è una cosa per Paolo e poi poi tanto rimaniamo a disquisire eccetera. Certo sì io mi ricollego proprio le ultime parole di Carlo per chiedere a Paolo cosa ne pensa di tutta questa cacciara mediatica che con mia sorpresa si sta anche riversando sui giornali ed è una cosa è una mia battaglia personale e la prima pagina di tutto sport di oggi che ci ricorda quanti gialli secondo me solo il preambolo verso la classifica degli errori arbitrali ed è una cosa che a me trova fortemente in disaccordo perché penso che la cultura lo sport sia altro e vorrei sapere cosa ne pensa un esperto di comunicazione se ci stiamo appiattendo anche a livello giornalistico in Italia anziché alzare l'asticella la stiamo abbassando verso gli altri. Però l'ho già vista appiattito nel senso un po' fa parte anche un po' della nostra storia nella nostra categoria la nostra metto la mia fa anche un po' parte della mia categoria e anche quella di Paolo non è la prima volta adesso nel calcio italiano che l'idea che ci si appiattisca un po' eh l'ho già vista altre volte ecco segue. Allora intanto adesso è una visione un po' ideale di me io insomma io non sono esperto alla comunicazione io sono uno che sta nel fango della comunicazione quindi dentro il fango cerco di di capire qualcosa eh guarda io seguivo con molta attenzione quello che diceva Carlo prima eh insinuo un tema eh nuovo cioè il fatto che quest'anno che poi è una banalità dico una banalità che però a me sembra eh assolutamente eh dirimente rispetto all'aumento delle tensioni e alla canea mediatica di cui tu parli che questa eh iper contestazione del VAR che c'è in atto il VAR è esattamente lo strumento che sta a metà tra la verità del campo e la verità dei media e non è uno spiegacela bene spiegacela bene allora nel momento in cui il VAR è diventato il luogo nel quale sembra che si giochi la partita la partita eh sì e che in parte è così e nel momento in cui il VAR è sempre più adesso io non uso le categorie di Massimiliano Allegri ma è sempre di più ambiguo io quando guardo le partite in televisione ormai mi rendo conto di non possedere i codici del regolamento cioè sento delle cose tra l'altro c'è faccio un esempio per 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 entrare nella realtà il eh fallo non fallo su Vlaovic di Ghiomber sì allora a centro area cross cross quella è una situazione nella quale ehm io credo che Vlaovic abbia tutte le ragioni di pensare che sia un calcio di rigore che eh Ghiomber abbia tutte le ragioni di pensare no io ho usato la malizia per non farti intervenire come viene risolta viene risolta con il fatto che il VAR comunque non interviene che probabilmente non può neanche intervenire e che comunque dentro la narrazione della partita viene immediatamente tolta dall'agenda c'è interviene Luca Marelli che ha la sua competenza che ti dice ma per carità ma questo non è mai un rigore avrei potuto fare il lo stesso discorso rispetto al fallo eh o non fallo su Ildiz a inizio gara dove secondo me Ildiz è bravissimo se lo prende quel rigore viene cassato senza nessun te allora il VAR è diventato quella cosa per la quale oggi è il terreno che unisce la canea mediatica è una verità molto provvisoria del campo perché dico che è una verità molto provvisoria perché tutto il dibattito attorno a bastoni non è orientato a ragazzi non l'entità del del contatto eh della gomitata o dove la bastoni duda interverò ma era ma per me doveva essere da verità di campo è un atteggiamento scorretto quello sì la palla è lontana sì punto e fallo il dibattito è stato per cui dopo 48 ore escono fuori le immagini da un tiktok di un di uno spettatore della curva nord che ci dà una nuova visualizzazione della situazione ma siamo in il Rashomon di Kurosawa cioè siamo nella verità che se calcio è diventato questa cosa qui c'è la verità si può modificare di ora in ora ognuno ha la sua verità io stavo pensando esattamente al Rashomon di Kurosawa no è un momento fantastico questo momento di cultura esattamente l'unico strumento che viene utilizzato per poter rendere un po' più razionale e coinvolgente questa situazione perché io francamente francamente e chiudo con questo allora io commento il campionato olandese e facciamo due partite a settimana 38 un'ottantina ricordalo dove così ti veniamo a fare la tv magari col como riusciamo anche a venire in serie a 70 partite all'anno no e allora io vi assicuro che in 70 partite all'anno gli interventi del VAR nel campionato olandese sono un quarto su episodi di una gravità della serie veramente caro arbitro non ti sei non ti sei visto una situazione che hanno visto tutti viene a controllarla e qualche volta l'arbitro posso entrare un po' nella polemica e poi ci esco come bastoni duda perché fabbri non guarda bastoni duda guarda ecco ma vorrei dire banalmente che se l'arbitro non vede il contatto la prima cosa che deve fare è appoggiandosi a un compagno di squadra che il barista dire guarda che io non l'ho visto fammelo vedere o come è andata fammelo vedere non dire però quando era terra ma guardato sì ma tu hai visto quando era terra ma scusa ma tu hai mai visto uno cadere a terra non guardare l'arbitro tutti guardano l'arbitro voglio il rigore anche quando mi falciano cioè nel senso è normale è la prima è la prima reazione che ho c'è dico a brino fabbri non giudica l'episodio per cui deve farsi aiutare è finito poi lo va a vedere poi lo va a vedere dice ma scusa ma duda è caduto per niente non glielo darà finita ma fabbri non lo vede l'episodio scusa paolo tu interrompi io continuo a pensare che se tu utilizzi il var prescindendo dall'entità del contatto come ormai viene utilizzato in italia tanto è vero tanto è vero che adesso il calcio è diventato la prova del fotogramma se abbiamo arrivato il calcio a questa roba qui e se aggiungo paolo i giocatori lo sanno più e meglio degli arbitri perché sono più furbi degli altri esatto esatto quindi noi in italia siamo dentro una mutazione genetica la canea mediatica e la risposta istintiva mi verrebbe di da dire per riuscire a raccontare questa cosa che è diventata un obrobrio perché il calcio visto col fotogramma è un obrobrio io ho sempre detto che ormai i rigori in italia sono diventati una sorta di disgrazia ti può capitare non ti può capitare e sì è così cioè quindi ma soprattutto è una cosa che e credo che questo sta condizionando molto l'evoluzione anzi l'involuzione del nostro calcio e e adesso arriveremo a io credo sei mesi dove la canea mediatica arriverà a livelli parlamentari parlamentari perché cosa fa oggi tutto sport preparati la vino no perché il problema è che ragazzi riproduce esattamente la giustificazione per la quale la juve è stata condannata a calciopoli è quello cioè quando ci avevamo le tabelle sul rapporto tra ammonizioni e falli che non vuol dire assolutamente niente perché un fallo numericamente è un fallo e l'ammunizione viene data da la gravità del fallo quindi non dalla quantità però bravo però siamo dentro questo e quindi prepariamoci a sei mesi dove qualcuno si diverterà molto qualche trasmissione qua l'unico che si diverte zampini te lo dico già prima certo ma va bene ma va bene così ma infatti zampini è esattamente la versione migliore di questo calcio mostruoso pensavo di kurosawa no 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 kurosawa e kurosawa non esageriamo ecco esatto non esageriamo e con questo vi saluto e vado a vedermi ozu altro grande regista giapponese c'è una rassegna qua c'è una rassegna a milano io su ozu ragazzi all'arlecchino all'arlecchino l'hanno chiuso a torino ciao a tutti ciao alessio ciao a carlo ciao a tutti quando nel momento in cui alessio lavino ha fatto a posto a quella domanda paolo rossi dentro me pensavo ma che domanda del piatta c'è una domanda che invece ha generato il momento più alto del nostro ricordati che non faccio mai domande piatte hai ragione 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 perché paolo parla di involuzione giusto involuzione a livello culturale dello sport secondo me ma la mia questione è che stiamo assistendo anche ad un'involuzione di come questo viene raccontato e raccontare luca se me raccontare lo sport è importante perché noi educhiamo la gente allo sport ma certo ma noi giornalisti ci prestiamo ci prestiamo a rendere a renderlo più superficiale a raccontarlo in maniera più sempre più superficiale questo è vero però non è che in passato la nostra categoria ha perso secondo me in italia ha perso il suo il suo la sua aura illuminata spesso anche visionaria da tanto tempo non quest'anno non so se carlo è d'accordo su questo ma che conosce meglio di me la storia del giornalismo sportivo italiano è che tra l'altro che un materno archivo infinito era molto più piacevole prima leggere giornali io per deformazione prossima leggo ancora però è una roba insomma brutta proprio ecco oggi no io tornavo però all'altro prima anch'io di salutarvi è legato al discorso del bar però luca io te la butto io però devo farti per una domanda prima che tu vai via ricordamelo perché sennò ok te lo dico no velocemente perché qui stiamo come diceva paolo mi sembra che siamo arrivati alla biscardiana moviola in campo perché non è più var queste cose non è che ormai su qualsiasi tipo di episodio che tipo come dice lui ti può capitare bene ti può capitare male a disgrazia sì perché ormai guardiamo tutto e ne è sbagliato secondo me non è questo utilizzo il va però i primi a dirlo dovrebbero essere quelle dell'aia o tutte quelle della lega insomma cerchiamo di capire esattamente dove è il perimetro di questa cosa altrimenti ci si è totalmente sfuggito di mano e poi dopo la gente ci sguazza ecco da quel punto di vista allora carlo la domanda prima che tu ci abbandoni ci saluti è la seguente mi risulta che eh cristiano giunto di sia eh calcisticamente infatuato lui credo pungolato da dei suoi collaboratori ma che lui sia calcisticamente infatuato di un attaccante sudamericano questo non vuol dire che la juventus andrà a prendere un attaccante quel giocatore o che farà molto sul mercato sudamericano sappiamo che c'è una certa ci sarà di nuovo una doppia attenzione sul mercato sulla juve per pescare in sudamerica ci peserà cinque volte prima di prendere qualcuno ed è più difficile quest'anno in questi anni perché con l'Inghilterra che non ha più l'extracomunitario vanno diretti esatto questo giocatore è uruguagio e quindi ho bisogno di parlarti e chiederti eh Lussiano Rodriguez Rosales Lucio Rodriguez eh lui Lucio Rodriguez del che gioca Liverpool Liverpool Montevideo Montevideo 2003 non è un quindicenne da o un sedicenne un diciassettenne da next gen parliamo di un giocatore del 2003 20 anni già compiuti ovviamente perché siamo già nel 24 siamo andiamo per il 21 giocatore che fa impazzire il gruppo di lavoro di giuntoli perché grande ha senso è forte non è forte quanto vale perché è una grande perché è ancora in Uruguay non so perché è in Uruguay allora eh non capisco no eh devo dire ha fatto un mondiale è uno da juve allora ha fatto un mondiale clamoroso mondiale under 20 clamoroso e devo dire che in quella situazione anch'io ho un po' di contatti giù in Sud America ho chiesto il motivo insomma perché lui loro mi hanno detto che perché ancora no ma hanno detto che quel cioè sul potenziale c'erano pochi dubbi però eh come dire non c'era quel tipo di continuità non c'era quel tipo di ecco da lì in avanti da quel mondiale il ragazzo ha svoltato è un giocatore che può fare sia sottopunta che partire dall'esterno che fare il finto nove è un giocatore davvero totale ha una lecca come si diceva ai tempi di Monbrano quando andava e facevamo anche noi quando lo dicevamo facevamo anche il gesto se no se no non capivano dovevi farlo insieme c'è una lecca ragazzi per i più giovani avrete capito la lecca non è una roba sessuale è una vabbè ma ogni volta bisogna fare questi no ma perché sai qui arrivano varie generazioni che si incrociano di tifosi dice la lecca come la lecca e la lecca col gesto pace a un calcio veramente fortissimo è vero che la luce 35 metri la verità va bene prego scusa no comunque è comunque una bella chiamata una bella chiamata non ho letto da nessuna parte da questa cosa una delle tue no questa qua so che c'è il problema c'è quello che voglio capire perché ha svoltato è una testa un po calda perché può essere perché è un giocatore che ha 20 anni e lì in uruguay gioca nel liverpool io non so esattamente no di che no di libero l'euro quest'anno fatto benissimo beh perfetto però in genere anche fabrizio diaz che è la cosa scusa tanti indovinano tre partite in sud america a 18 anni li prendono già ma c'è un percorso un certo tipo e poi quel mondiale comunque l'ha rivelato ma quando fai bene alto livello ma è vero che giochi poi dopo lo segui durante il campionato campionato uruguay non è un campionato di alto livello però lui sta facendo molto bene e a quel tipo di qualità a me piace onestamente o anch'io ho sentito i giudizi non positivissimi però a me piace tantissimo quando me l'hai detto eccoci vedi che a quindi rispetto a un caio giorgi ma per usare c'è un centravanti è sempre stato un centravanti lui non è un centravanti cioè non è non nasce come centravanti nasce un po come esterno un po po giocare sì davanti ma si muove gioca meglio fronte alla porta secondo che ha un calcio clamoroso da fuori però caccia spesso punizioni e un raspadori con la lecca ecco no che no però adori non è un esterno per me è il grave è un sotto è un centravanti raspadori un centravanti che non farà mai il centravanti in carriera come pepito rossi non lo so andiamo da qualche altra parte vediamo lo stai spostando speriamo ai 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 ragazzi io non ho sentito non ho visto nulla ma io ho già capito carlo velocemente ma hai sentito qualcosa hai sentito qualcosa su flamengo alexandro potrebbe andare a cennaio in brasile no tanti tanti dicono anche perché arrivati a gogiarò magari dice alexandro se no non l'ho sentito però ci può stare come come chiamata il flamengo è l'unica squadra di alto livello c'è di di altri che può permettersi un ingaggio nettamente sopra media quindi ci può stare assolutamente come chiamata e poi c'è un giocazione allenatore come tite che comunque ha sempre ma lo ha sempre chiamato anche in nazionale quindi c'è anche questa cosa carlo pizzigoni grazie a ragazzi la fiera del calcio su tv la fiera del calcio non solo su twitch ma io vi dico twitch perché siete qua conoscete la piattaforma seguite eh carlo e gli amici della fiera del calcio eh faremo uno uno speciale coppa d'africa sul lucio interessato l'abbiamo già parlato però al mondiale e anche dopo e faremo venerdì sera dopo le undici proprio con un collegamento da abidjan con alex cismic che farà giù perché parleremo parleremo di coppa d'africa scusa speciale coppa d'africa sì con alex il nostro inviato che è giù in che giù ad abidjan beato lui e si vedrà tutta la coppa d'africa lì quindi molte volte ne parleremo e poi vabbè seguiremo come al solito tutto il calcio internazionale e anche italiano perché anzi se non è andato a bologna perché quelle cifre bologna non ci fai nemmeno 20 seconda non esiste un'altra cosa sono due ambiti diversi evidentemente però sul bologna come per come sta facendo per i tanti giocatori sono ci sono tantissime richieste da calafiori calafiori in giù tanti tanti nomi ferguson giusto è che ha chiesto per chi è che ha chiesto calafiori non so sono tanti secondo me prima lo prendi meglio è prima con l'offerta importante il meglio è perché il ragazzo è destinato a crescere e l'interesse attorno a lui è destinato a crescere non solo in italia intanto carlo guardati ma lo conoscerai come l'intendente sancho di mizu mizu gucci 1954 capolavoro no a simile gucci sì sì lo conosco guardando il nome ragazzi il tridente le basi del tridente lì eh grazie quarto sarebbe mitoma però fa un'altra cosa perfetto ciao ragazzi ciao ciao a tutti ciao oggi curiosava il film preferito forse un'opera minore del su usala giuntali giuntoli l'assondato questo questo calafiori carlo più abbottonato di luca beh ragazzi ma carlo va esce dalle riunioni di mercato con i procuratori coi direttori sportivi stacca un'ora per farla live con noi adesso torna in riunione e secondo voi ci dice chi ha chiamato calafiori che appena entrando in lì dicono guarda che ti stavamo seguendo sulla cosa non devi dirlo eh ragazzi quante quante possiamo raccontarvi la vino vuole uccidersi perché no no ma cosa è successo ma per calafiori ma va per cosa ma ci serve anche calafiori ma quanti centrali vogliamo comprare no però mancino ah ecco c'è la storia la storia del centrale mancino alessio cosa ti è più mancato di juventibus in queste settimane in cui mesi anni in cui ma io vi ho seguito solo che anche a fare di no sì mi ho seguito ma cambio di lavoro eccetera sono molto impegnato e cosa stai facendo ribello cosa stai facendo ribello ora sono editore per nature che è una rivista scientifica ad alto impatto mondiale quindi lo vuol dire editore editore vuol dire che valutiamo i manoscritti scientifici curi una rivista scientifica quindi gli articoli editor in chief queste cose qua sì 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 e quindi sono nella rivista nature chemical engineering che la rivista di ingegneria chimica di nature e lanciamo fra due giorni quindi 72 giorni ragazzi facciamo cos'è giovedì giovedì alle alle 4 pm ora ora inglese quindi complimenti grazie sono stati mesi abbastanza intensi diciamo immaginiamo complimentoni qui parliamo ragazzi nature la migliore la gente dice sì sì tutto bello ma il 20 per cento ma c'è sta roba del 20 per cento su dragosin che non fa dormire gli juventini ma che me frega allora se ne frega allora io ho visto tutta sta polemica su dragosin ragazzi dove li ha presi la juve i soldi per giallo 1 e poi con l'affare dragosin abbiamo fatto cambiaso ma perché ci focalizziamo sempre tre milioni e mezzo contestati per la perché dovevamo segnarli come permuta noi abbiamo dato dragosin e abbiamo preso cambiaso due giocatori che stanno in fase di decollo entrambi complimenti a loro complimenti ai percorsi a dragosin serviva in quel momento fare un passo indietro e ripartire come ha fatto poi attraverso anche la serie b e a cambiaso serviva qualcuno che li desse fiducia e lo tenesse in a ad alti livelli come gli è successo anche attraverso il prestito a bologna ha lavorato un anno con tiago motta che comunque è stato un allenatore importante per lui quindi attenzione tra l'altro cambiaso ora il giocatore chiave del nostro setto tattico e di questo ce ne dimentichiamo spiegaci perché è perché lo spiegate molto meglio voi a jb zona però tra l'altro uno dei format migliori di juventibus ecco se c'è un formaggio sempre seguirei il migliore ma se se sono formato che ho sempre seguito e jb zona perché quello che conta il campo alla fine no e quindi già bisogno di parli del campo ma perché con cambiaso puoi fare tante cose interessanti usa bene entrambi i piedi sai quest'anno la juve no sovraccarica bene la catena all'inizio lo faceva a sinistra ora che gioca a destra lo fa vediamo anche a destra questo è massimo zampino ma tu sai che c'è lui con testa il primato di jb zona che oggettivamente però il formato ovviamente il calcio e forma di punta di questo canale ragazzi prima c'era jb like ai bei tempi esatto poi allora zampini rivolto ma casa juventi posso ogni tanto lo guardi sì quando sono in pausa pranzo 20 minuti mi fa compagnia devo dire però c'è come metterla canzone sono d'accordo ma perché sempre i media i media i media i media massimo zampini saluto massimo domani domani vi porto almeno un bell'ospite non vi do io l'anteprima tanto massimo ancora più interdetto cosa è ancora più interdetto massimo che continua a commentare ma lui fa copia in colla ultima puntata infatti prima è ultima alle 14 no no devi tornare a trovarci ovviamente ti faccio un enorme in bocca al lupo per tutto questo immagino cammino di preparazione visto che c'è il battesimo post domani per la rivista sarà stato un cammino non facile lavoro nell'editoria da anni io vengo dalla carta stampata so che sono cambiate un milione di cose ma il tipo di di fatica che non si vede quando vanno preparati questi progetti incredibile speriamo ovviamente che tu venga ripagato complimenti in bocca al lupo grazie mille grazie però quando puoi mai passa mai passa sta linea aziendale viene a trovarci infatti con molto piacere con molto piacere ma col frosinone come chiudiamo con una notizia come giochiamo col frosinone bene 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 un'analisi molto profondo rugani centrosinistra me lo assicuri che lo fa rugani centrosinistra gioca gatti a destra il centrosinistra viene a dire perché la danilo con la palla che sa fa sempre sfida un alexandro mazza e poi vediamo se fa giocare rugani o bremer da ultimo no ci sta coppa italia in casa gara secca frosinone non so neanche gatti rugani alexandro non va bene no cambiaso cambiaso quinto che si riprende no ma fai giocare il link fai giocare il link il caso cambiaso non tenerlo fermo dieci giorni cambiasi non è quelle quelle sono quelli che non li devi fermare hai capito quelli gli butti il formaggio iniziano a correre fanno giocare è stato fermo via 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 io voglio rugani io voglio rugani mezzo sinistro e il mezzo sinistro di centrocampo di centrocampo mezzo sinistro di difesa mezzo sinistro di difesa è l'unico che fa bene con le letture quella dove danilo si lascia sfilare la palla e prendiamo sempre gol nella stessa maniera scontro totale il diz sull'è dove è la sfida super sfida ah nella partita sì intanto attenzione situazione ken l'avete vista trascorrere qua sotto questa cosa quattro offerte per lui monza che ne ha chiesto informazioni fiorentina che pare essere rifatta sotto per entrare un po più nello specifico degli argomenti il monza preme per il prestito fino a giugno e lo scrive anche romeo agresti attenzione perché c'è anche il bologna ma l'operazione giocatore che sarebbe stato indicato da tiago motta evidentemente il bologna questo sogno europeo non dico c'è un sogno europeo lo vuole alimentare e quindi cercano un attaccante in più che zirc da solo va bene tutto ma o sei gullit della che vince il pallone d'oro forse non riesce a trascinare da solo il bologna fino alla fine no visto che si è posizionato lì c'è l'idea bologna viene ritenuto un po troppo onerosa l'operazione anche fosse in prestito perché a juve se lo dà in prestito verifichiamo se c'è l'intenzione a juve se c'è l'intenzione giocatore che però secondo me sta ascoltando e questo è già un segnale perché quando quattro società 32 arrivano su un giocatore e hai queste informazioni vuol dire il giocatore aperto a parlare al suo procuratore ha detto vai e parla a me risulta anche un interessamento un sondaggio del paris angela sondaggio per prende informazioni giocatore che loro conoscono bene hanno già avuto che abbastanza anche nelle grazie di mbappé nel senso come dire ok bisogna capire a cosa loro servirebbe però vediamo è attenzione situazione che è da monitorare allegri allegri sotterrebbe volentieri ma lei non fa però le ragazze lei che non fa il mercato della juve siete contenti siete contenti non fa il mercato da juve prego qual è l'interesse della juve nel dare che hanno in prestito per questi sei mesi cosa ci guadagna la juve dando che hanno in prestito in questi sei mesi ma infatti a me risulta che al monza sia stato detto no nel pranzo avuto con galliani poi però se tu hai giocatore che spinge hai un problema o meglio hai un problema hai una situazione che cerchi di gestire e al giocatore dici ok senti allora fammi sentire chi come perché magari tu cerchi di capire la tua situazione e magari sai magari arrivano lui giocare anche l'europeo certo lato giocatore io non capisco però lato lato juventus in certo non ho detto che la stessa situazione di house ne non credo sia la stessa situazione di house non c'è proprio il parallelismo non c'è no anche se non è la stessa cosa non è la stessa cosa assolutamente voglio ringraziare tricksterone 27 mesi ci sono arrivato d'arco cova ripardo 13 mesi con noi boom boom bianconero 16 mesi vinni poi c'è danni volpe nicolo bertuzzi 18 mesi rinnovato l'abbonamento anche davide forapani 9 mesi con noi per zio luca 25 forza juve forza juventus sky 88 quasi 30 mesi sarone mattarella bis che è sempre uno dei miei nickname preferiti quindi come farvi niente in mente però è meglio che sbrugge lini 418 jbs underscore underscore fp che di bullo 82 eccetera eccetera roberto aquilante vediamo se c'è un nuovo abbonato abbonato bucava lo fanno il mercato hai smesso no io non gli ho smesso non il mercato e quindi io faccio solo più da transfer cioè se mi arriva qualcosa di spontanea spontanea volontà da parte di qualcuno che mi sembra io prendo e preferisci l'informazione come questo filo io faccio come questo filo è capito trasferisco da lì a la seconda delle necessità ecco ha rinnovato anche mai freddy monamur lo conosci ne ho sentito parlare però non ho sentito cose cose buone su questa persona non lo so fai gli auguri a paolo ci scrive joshua che non so se sia il mike freddy monamur o meno ma so che oggi è il compleanno di jimmy page che compie 80 anni e quindi scusami paolo ma ho una serata di gala con jimmy stasera che ti devo dire eccolo qua un saluto anche dal messico ovviamente vi do e vi ricordo l'appuntamento stasera alle 23 quelli del martedì super trampe tutti carichissimi è la pazza notte degli inseguitori a caccia della lepre col fucile puntato la metafora causato marotta o cioè o cioè diciamo alla mamma occhio una notte che se parte poi la pallottola giusta attacca che non ci va parigi ormai farà per la milano volea o beh però parigi come trapper potrebbe puoi avere anche più cassa di risonanza allora non avevi parliamo di felipe anderson del centrocampista e poi ci salutiamo no no ragazzi tra otto minuti o un impegno inderogato 8 allora facciamo così o domani alle 14 zampini ha messo su un teatrino incredibile va bene o al più tardi venerdì quindi prima di sabato ci aggiorniamo anche su felipe anderson e su la questione centro capista ma alessio prima di salutarti perché non è che voglio boicottare totalmente questo tuo desiderio ti chiedo di dirci conosci ben sei un grande fantacalcista quindi segui tutti i giocatori da anni l'idea felipe anderson quanto ti attizza a 0 perché no buona idea buona idea da 0 a 100 quanto buona idea 73 per fare cosa per subentrare a gare in corso oppure per giocare alcune partite dall'inizio è un giocatore che salta l'uomo o non abbiamo un giocatore che in grado di saltare l'uomo ah no abbiamo il dis e basta chiesa chiese da tempi però chiesa lo aspettiamo chiesa 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 sul lungo chiesa sul lungo io dico ma le si ragazze di riscatto la parola all'inter anche già l'uomo ha dato la parola all'inter però anche bremer volendo però di rischiato a 3,8 milioni più bonus vediamo la juve è informata di questo non mi risultano movimenti particolari della juve sul giocatore che su cui è molto aggiornata per ovvi motivi cioè non è giunto di non ha neanche bisogno di alzare il telefono neanche bisogno di mandare whatsapp c'è una connessione mentale diretta con gli agenti di zilinski ragazzi cioè non è un problema va bene va beh comunque ti piace abbastanza l'idea felipe anderson se ci sta secondo me ci sta può entrare nelle rotazioni può anche diventare un titolare in alcune circostanze e salta l'uomo che la superiorità numerica qualità a corsa a dribbling non vedo perché no a me pare molto calato nell'ultimo anno e mezzo rispetto alle sue caratteristiche primarie la velocità lo scatto anche profondo la capacità e l'anest l'ho visto calato di un anno e mezzo magari anche un calo di motivazioni un po perché la lazio è calata la lazio luca è calata la lazio anche un ambientino ragazzi che ve lo raccomando sono riusciti l'anno in contestazione feroce con immobile che gli ha fatto 4 mila gol in sei anni c'era ragazzi che vedono ma è quanto per la lazio è difficile da giudicare perché è calata tutta la lazio ultimamente cioè quest'anno nessuno sta facendo bene ma già la seconda parte anno scorso si poi va bene anno scorso aveva dovuto riciclassi tante volte da falso 9 gli aveva fatto fare quella cosa che sarebbe fatto fare a mertens a napoli no la varice non è lì non se ne era raccavata neanche male ma non è il suo non lo prendi per far quello no non lo prendi assolutamente no chi vincerà lo scudetto adesso non l'inter ragazze milan pericolosissimo ciao a tutti ci vediamo questa sera domani e chissà quando alessio quando vuoi venire in live fate vivo il giorno prima e e ti portiamo dentro a fare le tue pazze domande dei dibattiti incredibili e devo dire oggi bello piaciuto questo sì anche lento e tu e ti so che tu recupererai tutti i film di curiosa domani tosta domani no perché è la vigilia della rivista del lancio la riuscita giovedì prossima settimana ciao bella live grazie my bloody young time juice e anna bianconera joshua il sicano 30 cents maruto cura ma st john united old lady e mille quattrocento tredici altri di voi grazie noi dobbiamo volare un po' come la juve ma torniamo presto ciao ciao a tutti